filmami, filmami la stacca forte la stacca forte adesso non li faccio, aspetta, l'ho fatto tre volte senza sbagliare il peso, quando c'è questa sbagli sempre così il peso, cerca di star di rinco come dice Spalpi che sono risciati così come un bufo bravo, allargale di più bravo allargale bene le ginocchia oh così bravo hai visto? bravo indietro il peso indietro il culo devi stare tanto più indietro bravo ho migliorato però hai capito? basta la tecnica riposati riposati due secondi dopo la facciamo al contrario pensate, solitamente se la zona è giusta al contrario è più difficile quasi sempre quasi sempre quindi pensala com'è riposati un secondo e poi la ripropi però hai visto che funziona? gambe larghe e culo indietro via di lì via di lì che ti viene addosso via di lì che ti viene addosso via di lì che ti viene addosso è il contrario perché con l'enduro invece hai fatto tutta la curva e inci tutto avanti bravo esatto è il contrario l'arco è il duro di andare via al culo è il contrario mettiti più in lì perché questo ti viene addosso vedi lo sapevo che faceva quel verso lì hai visto come l'ha fatta o come ha tentato di farla? guarda i pesi se tu non guardi l'altro che riesci a farla tu non la farai mai guarda lui guarda lui lui non usa pochi pesi quindi puoi guardare lui perché lui usa pochi guarda lui il movimento che fa guardalo quando arriva lì guarda che movimento fa e lui in quattro tembi è un po' più lento quindi lo vedi ancora di più schiaccia parte schiaccia l'ammortizzatore dietro tocca un pelino il davanti e poi fa un saltino ma cosa lo vuoi? spingere sotto l'ammortizzatore? certo guardalo guarda che lui lo usa meno vai avanti Luigi vai avanti guarda come la fa guarda il suo movimento non guardare la moto guarda come si muove lui hai capito? prova 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 siamo qua a prenderti il come è mio il come è mio siamo qua a prenderti si mi prendi per te no guarda il suo movimento schiaccia il dietro sfiora il davanti è arrivato corto hai visto che succede a tutti prima ferma e fai sti sti primo o seconda seconda la tua seconda guarda che seconda vai via lungo occhio non esagerare guarda che seconda vai via lungo guarda che seconda vai via lungo guarda che seconda va via lungo perché secondo la è guarda che seconda vai via lungo guarda che seconda è ok